Grazie a tutti. A chi è interessato a fare un passo avanti per fare attivismo nell'associazione con uno slogan, ovvero libertà e partecipazione. Quando noi partecipiamo a qualcosa di più grande di noi, costruendo un'idea, portando avanti questa idea, nella società noi stessi ci liberiamo e diventiamo protagonisti attivi del mondo in cui viviamo. Oggi presenteremo i gruppi in cui è composta l'associazione, dalla salute, l'accoglienza, gli psicologi, gruppo giovani, spazi donne eccetera. Cercheremo di fare anche un po' la quadra della nuova struttura dell'associazione in modo da essere più attivi e più dinamici all'interno della città e al servizio della cittadinanza. e cercheremo anche di riunire tutta una serie di idee che le persone ci porteranno perché da noi le migliori idee sono quelle che ci portano le persone, i nostri soci e le nostre soci. nel 1996 quando uscì dalla rete Arci e da lì poi a partecipare... ... Grazie a tutti